credo che ci siamo già e questa sarebbe la scuola perché sembra un labirinto di siepi forse per tenere lontani i ciuchini parlanti sì beh forse io ti aspetto fuori divertiti guardate un orco quanti potenziamenti avrà torna qui con quella chiave torna qui con quella chiave un momento non sei ginebra ora sì che mi fa innervosire non sei di livello sufficiente per affrontare il labirinto silenzio mi arrendo tiro salvezza contro veleno ma è possibile che nessuno lasci mai un cancello aperto tranquillo capo scalerò l'impenetrabile fortezza e sgombrerò la via ok il gatto con gli stivali non ha paura de nada ecco il ponte elevatoio e scommetto che voi siete il comitato di benvenuto ehi ragazzino qual è Artù? quello alto laggiù ma preferisce essere chiamato con il suo soprannome dolcezza ok 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 ecco ecco chissà la faccia di Artù quando vedrà cosa faremo al suo cavallo Streghe! se sei venuto per giocare la pagherai molto divertente ora torna al tuo stupido gioco VESSO! ragazzo ho una sorpresa per te e adesso non avrai mai la spada shrek ah puoi tenerti la spada voglio solo il ragazzo no non avrai né una né l'altro ragazze prendetelo ehi shrek occhi aperti lancia i palloni contro la strega shrek lancia i palloni contro la strega shrek ehi shrek molto bene dolcezza tu verrai con me come mi hai chiamato dolcezza forza abbiamo una nave da prendere lo hai detto di nuovo si è un intero regno ti chiamerà così semmai ci arriveremo ora muoviti dolcezza levami le mani di dosso hai insultato l'onore di l'ancillotto per l'ultima volta l'ancillotto? credevo che fossi Artù questo è troppo ci affronteremo sul campo di battaglia ciao i